Il mercato settimanale di merci varie del lunedì ad Andrea ripartirà regolarmente a partire dal 15 giugno e cioè da lunedì prossimo e il risultato giunto al termine della riunione svolta nel pomeriggio di ieri presso palazzo di città tra l'amministrazione commissariale e le associazioni di categoria. Si riparte regolarmente nelle aree solite del mercato e cioè via Brino Bozzi, il viale Gramsci, via Achille Grandi e l'anello esterno dello stadio degli Ulivi con gli stagli e le concessioni già assegnate, modifiche solo da alcuni posteggi di via Achille Grandi per permettere uno sviluppo più sicuro del mercato rispettando tutte le distanze di sicurezza previste per l'emergenza covid-19. Dopo le diverse proposte da parte dell'amministrazione commissariale dunque che aveva anche avviato uno studio di fattibilità per la divisione in tre delle aree in cui svolgere il mercato c'è invece il dietro fronte l'accordo complessivo sulla ripresa regolare dell'attività di circa 500 ambulanti della città di Andrea ormai fermi da quattro mesi. Si è perso molto tempo in realtà almeno quattro settimane da quando si sarebbe potuto far ripartire già in sicurezza l'attività dei mercatali che ebbene ricordarlo hanno un peso importante nell'economia della città di Andrea. Durante la riunione di ieri pomeriggio è comunque stata più volte ribadita la necessità di rispettare tutte le norme di sicurezza soprattutto per evitare possibili assembramenti, utilizzo di mascherine gel per le mani ma anche controllo attento da parte dei mercatali del corretto sviluppo dell'attività. Lunedì prossimo dunque sarà sin da subito un banco di prova importante per il futuro. Futuro che vedrà comunque possibili problemi a partire da agosto quando inizieranno le attività preliminari al via dell'importante cantiere di interramento della ferrovia nell'abitato di Andrea. Ci potrebbero essere dei disagi e soprattutto degli spostamenti selettivi in base alle necessità della ferrotranviaria che effettuerà saggi e lavori preliminari all'avvio ovvero e proprio del cantiere previsto per ottobre. Soddisfatte al termine della riunione le associazioni di categoria che ribadiscono l'assoluta sicurezza nella quale si svolgerà uno dei più grandi mercati settimanali del sud Italia. Di contro le associazioni di categoria restano alla finestra in attesa di comprendere cosa accadrà però ad agosto.